è anomala va bene no perché guardate ce ne sono tante di cose da dire su questa situazione è una cosa importantissima voi lo sapete anche i pensionati i pensionati a 600 euro al mese si trovano in queste condizioni e poi volevo chiedere all'avvocato all'avvocato lì ma è costituzionale che uno si deve imporre a una propria persona di abitare anche in un gabinetto se no paghi le tasse grazie Gianna mamma mia ragazzi ma io in realtà Vito volevo parlarti di cucina di? una ricetta posso darti una ricetta sì allora come si fa a bollire un ratto un? un ratto senza che il ratto se ne accorga allora la ricetta è questa tu prepari un pentolone di acqua fredda ci butti dentro il ratto e poi alzi la temperatura del pentolone fino a quando raggiunge il livello di ebollizione il ratto sentirà all'inizio un po' di tepidore un po' di caldino poi sempre di più e poi si troverà bollito perché ho detto questa cosa che è una metafora? perché quello che è accaduto e sta accadendo negli ultimi credo addirittura di poter dire 40-50 anni dalle nostre parti in Europa è esattamente la strategia della bollitura del ratto cioè loro non ti hanno detto improvvisamente guarda che ti bolliremo, ci stai perché se loro ci avessero detto guarda che vi bolliamo, ci state noi avremmo detto no, grazie preferiamo rimanere liberi? loro hanno fatto un sistema tale per cui un passo alla volta lentamente in maniera quasi inavvertibile scivolosa, subdola ti hanno creato questo sistema tale per cui improvvisamente tu ti svegli in questo incubo tipo il diario dell'apocalisse del 2013 dove vivi in uno stato incredibilmente ti accorgi che il tuo primo ministro per poter decidere qualcosa deve andare a Berlino a chiedere il permesso oppure ti dice tutto impettito davanti alle telecamere ho una grande notizia da darvi la Europa Unita ha deciso di far rientrare l'Italia dalla procedura sul deficit l'Europa Unita ma da quando in qua io che sono uno stato sovrano e libero ho bisogno che un'entità esterna mi dia il placet perché sono rientrato da un deficit cioè mi sono perso delle puntate di questo film ci siamo persi delle puntate di questo film uno perché eravamo addormentati due perché ve lo assicuro non ce lo hanno mai detto quando mi viene mi viene giustamente il professore prima ha detto una cosa giusta il fatto che a livello costituzionale è impossibile fare un referendum ci sta dovremmo cambiare la costituzione ma lasciamo perdere questo aspetto giuridico vero ma quando mi si dice ma perché non si fa un referendum per uscire dall'euro io rispondo scusate ero distratto ma dove ero quando mi hanno proposto di fare un referendum per entrare in questo euro perché è giusto quello che dice l'avvocato che ha detto l'avvocato prima viviamo in un mondo che cambia se non si tenesse conto del cambiamento non saremo esseri umani però attenzione a me va bene vivere e competere in un mercato globalizzato ma se tu mi dai le armi per farlo allora le armi per uno stato sono la sovranità nazionale la possibilità di stampare moneta la possibilità di fare politica monetaria e fiscale la possibilità di apporre dazi ai propri confini la possibilità di evitare se vuole di accettare dei diktat dall'esterno chiudo dicendo guardate che la gravità di ciò che è accaduto è equivalente a questo che vi dico come se voi domani improvvisamente vi svegliaste e scopriste che l'esercito italiano improvvisamente non c'è più è stato appaltato a un esercito degli Stati Uniti piuttosto che della Finlandia o della Svizzera oppure andaste in un tribunale scopriste ma come ci sono dei giudici norvegesi che mi giudicano ecco l'equivalente di ciò che è successo è questo perché quando voi avete perso il diritto sovrano di stampare moneta senza che vi fosse chiesto senza che fossero stati interpellati e quando vi fanno entrare nel famoso pentolone che ha bollito il ratto che poi saremmo noi e non ve l'hanno chiesto è questo che sta accadendo e quindi giustamente diceva l'avvocato sono cose di cui dovremmo parlare da mattina a sera il tuo grande merito oggi è quello di dire guardate avevo una trasmissione di due ore sono talmente interessanti queste cose andiamo avanti un'ora in più e speriamo che accada sempre di più perché la gente ha bisogno di capire certo pronto pronto buongiorno professore sono Luciano da Torino buongiorno Luciano se si ricorda di me l'avevo fatto un appunto tempo fa sulla spazzatura che noi vendiamo cioè che noi dobbiamo pagare per la Germania mentre ci sono la Finlandia non so qualcosa che la comprerebbero addirittura le vorrei dare un'altra chicca ultima che mi è arrivata va bene e legandomi a quello che diceva il ministro Kenji per l'immigrazione e tutto quanto il resto e anche l'altra signora precedente che parlava che noi dobbiamo combattere contro i rumeni e...